Non so voi, ma per me fare le pulizie è sempre stato un peso, almeno fino a quando è arrivata Roventa Air Force 360, la nuova scopa elettrica che mi ha semplificato la vita. Scopriamola insieme. Senza filo, leggera e maneggevole. Spazzola di aspirazione motorizzata adatta tutte le superfici. Tutto in uno, grazie alle diverse configurazioni. Tecnologia ciclonica avanzata Air Force. Roventa Air Force 360 è la scopa elettrica che sostituisce ogni giorno il nostro aspirapolvere e non solo. È compatta e maneggevole ed è senza fili, una bella comodità per la massima libertà di movimento. È dotata di una spazzola di aspirazione motorizzata che assicura potenza e prestazioni su tutti i tipi di pavimento, da quelli piastrellati alla moquette e anche sul parquet. Air Force 360 sfrutta la tecnologia ciclonica avanzata Air Force, potenza al servizio dell'igiene. In pratica la polvere viene perfettamente aspirata per una pulizia di lunga durata grazie al potente motore elettronico. Air Force 360 è una scopa elettrica tutto in uno, il che significa che con un semplice clic può cambiare configurazione diventando un potente aspirapolvere portatile. O ancora si può trasformare in uno strumento telescopico per pulire in alto o laddove gli altri aspirapolveri non possono arrivare. È dotata di mini elettrospazzola per rimuovere lo sporco o peli di animali da divani e auto. Air Force 360 arriva sotto i mobili bassi grazie alla spazzola ultra sottile dotata di luce led per rilevare la polvere anche nei punti bui. Le batterie a litio ricaricabili assicurano fino a 20 minuti di autonomia e si ricaricano in sole tre ore riponendo la scopa sulla pratica base. Roventa Air Force 360, la scopa elettrica che mancava, ora c'è!